E' arrivata sul tavolo del sindaco Battista negli uffici di Palazzo San Giorgio la relazione redatta dal gruppo Unimol sulla scuola Enrico Dovidio di Via Roma, storico edificio di Campobasso. Ieri il professor Callari ha consegnato lo studio di vulnerabilità sismica effettuato negli ultimi mesi sulla struttura e il verdetto è per certi versi inaspettato. L'equipe di esperti infatti pur rilevando criticità importanti non suggerisce la doppia soluzione come invece è avvenuto per altri istituti passati al setaccio, vale a dire Don Milani, Mascione e Montini, ma consiglia soltanto gli interventi di adeguamento sismico. L'ipotesi di abbattimento di una struttura simile, ha detto il professor Callari, la reputo impensabile. Innanzitutto perché dagli studi effettuati abbiamo sì rilevato che la struttura ha bisogno di interventi sostanziosi, ma che tra tutte le scuole sottoposte alla nostra indagine non è quella messa peggio. In secondo luogo si tratta di un immobile storico, di pregio, uno dei più belli del capoluogo, probabilmente anche sottoposto al vincolo della sovrintendenza. Insomma, per l'Unimol l'edificio può essere adeguato sismicamente rispondere con degli interventi strutturali che ovviamente l'Ateneo non quantifica, essendo prerogativa dell'amministrazione comunale alle vigenti norme di sicurezza. Entrando nel dettaglio, i calcoli presenti nella relazione sono sviluppati sulla base di dati già disponibili, riportati in uno studio di vulnerabilità del 2008 e in un progetto di interventi di miglioramento del 2011-2012. Entrambi questi documenti sono stati forniti all'Unimol in forma gravemente incompleta, anche per questo motivo gli ingegneri hanno raccolto ulteriore documentazione, come quella relativa al collaudo dell'edificio completato nel 1921. Lo studio della limitata documentazione disponibile e l'esecuzione di sopralluoghi hanno evidenziato alcune criticità dell'edificio scolastico in esame. Fra queste, le più significative per la loro influenza negativa sulla risposta sismica della struttura sono l'elevata percentuale di aperture nelle murature portanti, soprattutto perimetrali. Fra queste aperture ve ne sono molte di notevole dimensioni. L'assenza di ammorsamento agli incroci murari, osservata nella indagine dello studio di vulnerabilità del 2008, è che può favorire la formazione di meccanismi di collasso locale. I tecnici hanno inoltre riscontrato ragguardevoli altezze di interpiano. Si tratta di circa 4 metri per il seminterrato, 5 metri per i tre piani fuoriterra, 10 metri in corrispondenza dell'aula magna. Proprio in corrispondenza dell'aula magna i maschi murari sono molto snelli. Questa situazione aumenta la deformabilità della struttura e il pericolo di caduta dei pannelli murari per azione sismica. Inoltre, dallo studio sono emersi altri motivi di inadeguatezza di alcuni maschi murari. Fra questi motivi vi sono spessori inadeguati e deficitarie proprietà meccaniche delle murature. E infine, deficitarie condizioni di vincolo in sommità delle pareti, comprese fra sottotetto e copertura. Questa situazione potrebbe favorire, in caso di sisma, la formazione di meccanismi di collasso locale per ribaltamento semplice. Sulla base dei risultati ottenuti, questa è la conclusione dell'Unimol. Si prospetta la necessità di programmare significativi interventi strutturali, visto anche il valore storico architettonico dell'edificio in esame. È opinione degli iscriventi, e il professor Callari lo ribadisce, che questi interventi debbano essere finalizzati al raggiungimento di un livello di sicurezza che sia il più vicino possibile a quello corrispondente all'adeguamento alla normativa vigente. È fermo opinione dell'Unimol che un intervento di miglioramento su un edificio scolastico debba comunque garantire un valore minimo dell'indice di rischio a cui corrisponda una vita nominale restante superiore ai dieci anni.